Il treno ha la velocità, Francia rossa, 35, 6, 4, 6, 20, 3, d'Italia, proveniente da Torino con la nuova e il vento a Roma 3, con i venti a午 e il vento a Minario 8, attenzione, allontanarsi dalla linea casa, per la lada di Roma 2, per i seguiti di indiesi sono in ombra, su questo treno ha risposto in servizio di ristorazione.